Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Sulla 1 panoramica tratto chiuso in entrambe le direzioni fino a circa le ore 18 tra il bivio con la variante di Valico e Aglio per il passaggio del Giro d'Italia. Sempre in A1 rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Scandici e Firenze Sud in direzione Roma. Attenzione al personale sulla strada e agli animali segnalati sulla strada tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandici in direzione Bologna. Sulla FIPILI rallentamenti per il traffico intenso tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze è mezzo pesante fermo in avaria tra Monterigioni e Badesse in direzione Siena. Sulla statale Trebbi-Stiberina svincolo chiuso per misure di sicurezza all'incrocio di Canili in direzione Roma. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!